Nonostante un aumento degli utili a 920 milioni di euro, qualcosa nei risultati del secondo trimestre di Credi Agricola ha indispettito gli investitori, facendo precipitare il titolo in borsa. Gli esperti escludono però che si tratti dei nuovi accantonamenti per le spese legali, puntando invece il dito contro il rinvio del riassetto della proprietà. Il numero 1 Brassac ha presentato dei piani di riorganizzazione delle operazioni, ma i colloqui con la BCE hanno messo in luce dei vincoli derivanti dall'intricata governance del gruppo francese che di fatto bloccano ogni cambiamento.